Illustrato e discusso in aula il piano regionale di sviluppo tra gli assi di transizione individuati su quali concentrare progetti e risorse economiche, l'assa ambientale, quello digitale e quello sociale. L'IRS 2021-2025, il documento preliminare in aula. Trasformare l'impatto profondo della pandemia in un'opportunità così da aprire una fase nuova per la Toscana, questo lo spirito che anima anche il programma regionale per lo sviluppo 2021-2025, il documento chiave per segnare le linee per la ripartenza della regione illustrato in aula. Tre gli assi di transizione individuati, ambientale, digitale e sociale, su cui si saranno concentrati i progetti e risorse. Il PRS rappresenta la svolta verso la ripresa e si propone i seguenti obiettivi. Fornire una connettività veloce e di qualità a tutti i cittadini toscani, sostenere l'innovazione tecnologica nel pubblico e nel privato, valorizzare il patrimonio culturale e promuovere la fruizione anche nell'ambito del sistema turistico, decarbonizzare l'economia, promuovere l'economia circolare, modelli sostenibili di produzione e consumo, rendere resilienti comunità e territori, gestire in modo sostenibile le risorse naturali e valorizzare i servizi ecosistemici, tutelare il territorio e il paesaggio, favorire lo sviluppo della mobilità sostenibile, rilanciare gli investimenti infrastrutturali, mettere in sicurezza e sviluppare la rete stradale, investire in istruzione e formazione e ricerca per una Toscana sempre più digitale, sostenibile e inclusiva, garantire il diritto all'occupazione stabile e di qualità, ridurre divari di genere generazionali, contrastare la povertà e l'esclusione sociale, promuovere la salute e il benessere dei cittadini, rilanciare la competitività di tutto il sistema regionale, promuovere la coesione territoriale e i luoghi della Toscana diffusa. È un atto molto importante che in ogni legislatura rappresenta un po' il piano strategico del governo della regione. Quest'anno il piano regionale di sviluppo in realtà si inserisce, e si interconnette con gli altri atti che sono al centro del dibattito, ovvero il piano per la ripresa e la resilienza, il cosiddetto piano che viene chiamato recovery plan, che si connette a quello che è chiaramente il piano nazionale, approvato il 30 aprile, e dall'altro ai fondi strutturali comunitari, perché siamo al crucivia dei fondi strutturali previsti dal 2021 al 2027. Io ho presentato un piano fondato su una Toscana d'eccellenza solidale e connessa, ovvero una Toscana che cerchi di valorizzare, da un punto di vista culturale, economico, sociale, quelle che sono punte d'eccellenza riconosciute nel mondo, ma dall'altro cerchi di rendersi più connessa, da un punto di vista delle infrastrutture ferroviarie, stradali, di grande collegamento nella direttrice est-ovest e nella direttrice nord-sud, valorizzando il corridoio tirrenico, ma contemporaneamente modernizzando, penso all'attraversamento dell'alta velocità o all'aeroporto, che è stato proprio ieri sollecitato, quello che rappresenta il modo per connettersi oltre, non solo sul piano fisico, ma anche sul piano immateriale, perché le connessioni della banda larga e del collegamento di aree che oggi hanno difficoltà a cogliere anche il segnale del telefono o dei social, è un obiettivo perché lo vediamo quando si riesce a creare la connessione, lo smart working e lo stesso sistema delle imprese ne ricevono un grande vantaggio. Però una Toscana solidale, perché lo vediamo da un punto di vista del contrasto, all'emergenza Covid, è una Toscana che tende a dover investire su quello che noi riteniamo essere una priorità, il sistema sanitario con i nuovi ospedali, con le nuove case della salute, con la telemedicina che ci aiuta a far fronte a quello che è l'esigenza primaria dei cittadini, la salute. Io ritengo che il piano regionale di sviluppo possa essere naturalmente integrato da quello che è il lavoro che possono fare i singoli gruppi, i singoli consiglieri e noi alla fine del mese di luglio lo possiamo raccogliere con il frutto di queste integrazioni per una versione definitiva che sia orizzonte strategico di governo nei prossimi cinque anni. Si tratta di uno strumento fondamentale per quanto riguarda la programmazione dell'attività della regione toscana nei prossimi anni. Si parte da una valutazione e di un'analisi di quelli che sono i dati strutturali della regione, quali sono le principali strategie prioritari che vogliamo mettere in campo, come lavorare per individuare politiche e progetti sia generali che quelli di settore per quanto riguarda l'uscita della Toscana dopo la pandemia e per il rilancio della sua attività, della sua economia, del sostegno ai territori e alle comunità sociali utilizzando anche nuovi modelli di sviluppo rispetto a quelli passati all'insegna della parità tra territori e della parità tra i generi. I punti che emergono da questo piano sono quelli ambientali, intendendo uno sviluppo sostenibile per quanto riguarda il futuro, sono quelli della coesione sociale, sono quelli dell'innovazione tecnologica. Su tutti questi tre temi sono individuati 15 attività strategiche e circa 27 progetti che riguardano ogni territorio della Toscana. Dovremo sempre andare di più ad affermare l'economia circolare, ad una sanità che anche seguendo le indicazioni venute dal Covid vada a rafforzare la sua integrazione tra il sanitario ed il sociale, che valorizzi la sua rete ospedaliera, anche fatta dai piccoli ospedali che hanno comunque mostrato una grande utilità in questa fase. E poi l'innovazione tecnologica, non soltanto applicata all'impresa, quindi alla produzione artigianale e industriale, ma anche alla pubblica amministrazione e quindi ad una maggiore velocità nella risposta che dovrà essere data ai cittadini e alle imprese. E poi come elemento di più eco e migliore accesso ai servizi, pensiamo ad esempio alla telemedicina, quindi in grado di abbattere anche le distanze di residenza dei nostri cittadini tra chi sta magari nella realtà urbana vicini ai grandi ospedali e chi invece sta nelle aree interne. Una Toscana vecchia che ancora non vuole guardare al futuro è questa la sintesi sui contenuti del piano regionale di sviluppo 2021-2025 per la capogruppo del Movimento 5 Stelle, Irene Galletti. La cosa più incredibile che emerge è che stiamo discutendo un documento che potrebbe essere stato scritto 5-10 anni fa. Si vede che è aggiornato soltanto perché c'è il riferimento alla pandemia che ci ha colpito e ancora sta colpendo la Toscana. Quello che è il rischio fondamentale di questa legislatura è che con questi soldi, molti che arriveranno in Toscana, si vadano a finanziare dei progetti vecchi e soprattutto si farà senza monitoraggio e senza degli indicatori. Ci sono degli obiettivi da raggiungere che come sempre sono generici, con delle modalità che sono altrettanto generiche e tutto questo significa che semplicemente vedremo replicata sempre la stessa storia e vedremo anche magari molti progetti che fanno parte, sono appannaggio di vecchie legislature o di realtà localistiche che sono care magari al consigliere o all'assessore di turno realizzate senza una prospettiva per il futuro. E questo è molto grave perché l'occasione del Next Generation EU è molto importante e adesso ancora la Toscana sta ragionando con vecchi modelli, con una vecchia struttura e soprattutto sta basando tutto questo su cosa? Su un progetto di una nuova pista aeroportuale che ancora porta avanti dopo molte bocciature, su autorizzazioni e continui ampliamenti di discariche, su sempre la continua gestione del paesaggio e dell'ambiente, la medesima da anni che è ancora non fruttuosa, con gli stessi problemi da affrontare, le stesse soluzioni e di nuovo probabilmente gli stessi buchi nell'acqua. Se ci fossero state dei monitoraggi attenti, vedremo che a distanza di continue legislature i risultati non raggiunti sono i medesimi e su questi ci si è investito molti soldi. Quindi quello che secondo noi si prospetta è l'ennesimo fallimento di politiche che sono sempre le stesse trite e ritrite e soprattutto che non mettono l'attenzione sul territorio e sul benessere delle persone, ma sempre su numeri del PIL. Critico il capogruppo di Fratelli d'Italia, Francesco Torselli. La Piana regionale per lo sviluppo ci aspettavamo sinceramente affrontasse i temi entrando un po' più nello specifico. Attraverso il PNRR arriveranno 750 miliardi, arriveranno tanti soldi. La Regione Toscana si prefigge di impegnarli in tante belle opere. Abbiamo sentito parlare di garantire l'occupazione, di rilanciare un nuovo Green Deal, di avviare un percorso che ci dovrebbe portare a centrare gli ambiziosi obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU in termini di migliorie ambientali, ma poi nel dettaglio non si affronta un tema concreto. Ci sarebbe piaciuto sapere come, visto che il PNRR investe oltre 50 miliardi a livello nazionale nella digitalizzazione, ci sarebbe piaciuto sapere in Toscana cosa vogliamo fare per superare il digital divide. Non è accettabile, è un qualcosa che fa male, che fa male al cuore dei cittadini toscani, pensare che oggi due bambini che nascono in due parti diverse della Toscana, uno che nasce in una grande città e uno che nasce in un comune collinare o montano, oggi non hanno le stesse opportunità. Oggi nascono e nell'epoca della digitalizzazione avranno due vite differenti. Chi non nasce in zone coperte dalla digitalizzazione, zone più evolute da un punto di vista digitale, parte svantaggiato, parte svantaggiato per il percorso di studi, parte svantaggiato per potersi collegare culturalmente col mondo, parte svantaggiato per poter viaggiare, per poter crescere culturalmente. Questo è qualcosa di totalmente inaccettabile. Ci sarebbe piaciuto leggere qualcosa di più sulle infrastrutture, perché i 750 miliardi che l'Europa fa arrivare in Italia non sono un regalo, 360 di quei miliardi andranno restituiti entro il 2058. Quindi o si investe in qualcosa che in futuro porta una monetizzazione in Toscana, qualcosa che porti monetizzazione, che porti interesse, che si riescano a capitalizzare questi soldi, oppure quello che oggi sembra un regalo, sembra un pacco regalo, potrebbe diventare un incubo. Perché se oggi questi soldi vengono spesi in provvedimenti spot, che non portano un ricircolo del denaro, che non portano un rilancio reale dell'economia, quello che oggi sembra un regalo, potrebbe diventare presto un incubo. Sappiamo bene che in questa legislatura il PRS vuol dire ripartenza da una pandemia che ha travolto il mondo, ma leggo nelle parole di Gianni i proposti e temi che sono ormai noti da anni, dichiara la capogruppo della Lega, Elisa Montemagni. Il piano regionale di sviluppo è un'opportunità, una responsabilità per questo Consiglio, soprattutto dopo la pandemia. Sappiamo benissimo che il mondo e la Toscana hanno bisogno e hanno esigenze diverse rispetto a prima. Purtroppo molti dei temi li abbiamo già letti nella scorsa legislatura e ancora non sono arrivate a compimento. Io credo che sia il momento di lavorare su un piano infrastrutturale che sia volto allo sviluppo della Toscana, che unisca tutti i territori e che li renda tutti fruibili sia dal punto di vista turistico che dal punto di vista imprenditoriale. Crediamo che ci sia da investire per quanto riguarda la scuola. Sappiamo benissimo che siamo rimasti indietro sul piano della qualità dell'aria, sul piano dei rifiuti, sul piano energetico perché il PAI era già scaduto. Quindi abbiamo tantissime riforme da dover fare e pensiamo che serva un'accelerata perché dovevano già essere pronte e votate probabilmente l'anno scorso. Adesso arriviamo alla rincorsa ma sappiamo benissimo che tutto questo si rende fondamentale per far ripartire la Toscana. Creare posti di lavoro, tutelare ciò che abbiamo, cercare di aiutare i distretti, andare a pubblicizzare tutti i nostri territori, a sanare il problema del digital divide che ancora è fortissimo nella nostra regione. Sappiamo benissimo che ci sono zone in cui la connessione è ancora assente. Abbiamo una grande opportunità che arriva anche dai fondi europei ma dobbiamo essere pronti per poterli spendere avendo una visione di futuro, non certo rimanendo ancora al passato. Noi come Lega abbiamo fatto una serie di proposte, qualcuna il PD ce l'ha approvata, qualcuna ce l'ha bocciata, ma pensiamo che sia utile e lo chiediamo nuovamente a questa maggioranza cercare di lavorare insieme per portare risposte ai territori e alla Toscana perché da una grande opportunità altrimenti questo piano potrebbe rivelarsi una programmazione sbagliata e che non risponde a tutti quei cittadini che ovviamente nella pluralità delle loro idee politiche si rivolgono a noi piuttosto che al PD piuttosto che a altre forze politiche. Quindi noi stiamo lavorando ancora a questa proposta e appena arriverà poi il testo siamo pronti anche a demendarlo e a cercare ulteriormente di portare a casa risultati per tutti i cittadini toscani. Il capogruppo di Italia Viva Stefano Scaramelli sottolineando la strategicità del documento ha evidenziato quali dovranno essere a suo avviso le priorità. Un atto importante è un'informativa sul documento più importante che la regione toscana deve affrontare il piano regionale di sviluppo è il documento con il quale le risorse comunitarie si intricano con le risorse dei toscani e con il quale noi faremo programmazione per i prossimi anni è un documento strategico molto importante sul quale abbiamo evidenziato l'importanza delle zone periferiche delle zone rurali dei collegamenti della connettività della sanità come fonte di sviluppo e nello stesso tempo come opportunità economica perché la tenuta sanitaria di una regione determina sviluppo economico questa pandemia ci ha detto questo quanto siano importanti le infrastrutture l'innovazione i giovani una serie di temi importanti che ci vedranno impegnati nei prossimi mesi e questo sarà un impegno importante verso il quale ovviamente il piano regionale dovrà integrare risorse comunitarie con risorse regionali grazie a tutti grazie a tutti Grazie a tutti.